Nuova edizione del nostro videogiornale, queste sono le principali notizie della giornata. Bassano, il ricorso contro la sanzione costa la beffa doppia due baristi multati nel parco a venire punita con un'ulteriore sanzione da 400 euro a testa, la presenza di marito e moglie nell'area verde di Prato Santa Caterina. Per la pattuglia impegnata nei controlli, i due gestori di un bar di Mussolente avevano pieno titolo a recarsi da un avvocato per il ricorso da presentare ma non a sostare in un parco fuori dal loro comune di residenza. Marostica, lupo solitario, intorno alle mure il sindaco esemplare disorientato la situazione monitorata a togliere i dubbi sull'effettiva corrispondenza con il predatore dei boschi, un'etologa esperta contattata dalla lava di Bassano. Intanto il primo cittadino, Matteo Mozzo, conferma che non si sono registrate altre segnalazioni su un animale, invitando i concittadini a tenere sotto custodia gli animali di piccola taglia, ma solo per precauzione. Valdagno la condanna al carcere esecutiva, 12 anni dopo la bancarotta arrestato un sessantenne. Da ieri pomeriggio l'ex agente di commercio Claudio Marcolin si trova in vestiti detenuto presso la casa circondariale di San Pio X dopo l'ordine di custodi in carcere decretato dalla Corte d'Appello di Venezia. Nel corso di una procedura di fallimento nel 2009, l'imputato rilasciò false dichiarazioni che gli sono valse una pena di 5 anni e 4 mesi. Malo, giovane mamma di 35 anni, stroncata da un malore sabato notte e lutto a Santomio. Marta Slaviero, maladense, madre di due bimbi di 3-8 anni, si è spenta nella notte tra sabato e domenica dopo aver accusato un grave malessere nel sonno. La chiamata al 118, la tempestività dei soccorsi non sono bastati per tenerla in vita a causa di un infarto su cui si vuole far luce. La giovane donna, ex maestra d'asilo, sembra soffrisse di un problema congenito. Veneto Covid, nelle terapie intensive pazienti più giovani e mortalità più bassa. Sono 260 i pazienti Covid presenti nelle terapie intensive del Veneto, 20 nuovi ingressi ogni giorno. La curva sta salendo, un po' meno ripida rispetto a novembre. Se l'andamento non cambia, a fine mese avremo 3-310 pazienti in terapia intensiva. Per questo abbiamo portato a 600 i posti letti operativi e ridotto le attività non essenziali, ha spiegato il direttore delle terapie intensive del Veneto, Paolo Rosi. Asiago, ospedale, ripresa l'attività chirurgica, bramezza, integrazione fra ospedali. L'ospedale dell'Alto Piano sarà sempre più punto di riferimento per la chirurgia ambulatoriale dell'Ulsset. Ieri la prima seduta di urologia, ma già sono pianificate sessioni di ortopedia, chirurgia vascolare. Il direttore generale bramezza conferma che non ci saranno più di tre ospedali distinti, ma un progetto di rete. Montebello Vicentino, un papero di Pezza, cittadino onorario di Montebello, adottato in segno di speranza. Si chiama Aurus, il peluche che l'amministrazione ha portato in municipio a nome di tutta la cittadinanza, in onore alle colline definite d'oro ai tempi dei romani. Per il sindaco è stata l'occasione per firmare il patto con Vicenza for Children, allo scopo di ospitare venti solidali a favore dell'ente che segue e aiuta le famiglie di bambini malati gravi. Arsiero, Ulsset, al via le vaccinazioni ai settantenni ad opera dei medici di famiglia. Per tutti, l'azienda sociosanitaria ha previsto l'invio di una lettera a casa con indicato il giorno l'ora e la sede della vaccinazione. Prosegue anche la vaccinazione degli insegnanti tramite prenotazione online sul sito dell'Ulss e degli appartenenti alle forze dell'ordine invituate nuove sedi. Siamo alle previsioni meteo, 23-25 marzo, ancora due giorni di rigore, poi spazio a correnti più umidi. Continua l'afflusso di correnti fredde dall'est Europa che manterranno cieli sereni sul Vicentino, ma nel contempo valori termici sotto la norma del periodo fino a metà settimana. Poi l'avvicinarsi di un campo di alta pressione da ovest porterà aria più unite nel Mediterraneo. La pagina dell'eco nazionale politica PD Capigruppo, passo indietro di Del Rio Marcucci resiste. Alla Camera ci sarà una donna. Continuano le operazioni del neosegretario Dem Enrico Letta che a poco più di una settimana dalle elezioni cerca di strutturare la sua linea dentro e fuori il partito. Dopo l'incontro ieri con il Ministro della Salute Roberto Speranza, nelle prossime ore vedrà anche Giuseppe Conte. Dall'estero sparatoria in Colorado almeno dieci le vittime, tra cui un poliziotto, un altro giorno di ordinaria follia negli Stati Uniti dove un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato di Boulder in Colorado. Il bilancio è di dieci morti, incluso l'agente, il primo poliziotto ad arrivare sul posto. Sport e qualificazione Qatar 2022. Mancini, la partita più difficile sarà contro l'Irlanda del Nord. Si è aperta la settimana delle nazionali. Stanno per scattare le qualificazioni mondiali del 2022 in Qatar. Per quanto riguarda gli azzurri, questi saranno i primi impegni. Giovedì 25 marzo Italia-Irlanda del Nord allo stadio Tardini di Parma. Domenica 28 marzo Bulgaria-Italia a Sofia. Mercoledì 31 marzo Lituania-Italia a Vilnius. Ed infine il bollettino Covid. 13.846 nuovi positivi, 386 decessi, primi cali nell'RSA. Ultimi dati forniti dal Ministero della Salute. E' tutto, grazie dell'attenzione.